Benvenuti nello speciale slasher, lo slasher è un sottogenere dell'horror che vede le geste di un serial killer che scandiscono la narrazione. Il film di oggi è in reazione a catena di Mario Bava comincia... Uno dei capisaldi del genere che senza saperlo ne inventa tutti gli stereotipi, anche se i fini del film sono chiaramente altri. Comincia con una creazione della tensione tipica dei film di Hitchcock, con un uso dei silenzi che ti fa sospettare l'arrivo di qualcosa di spaventoso. Con, nella prima scena, un uso della violenza moderato che punta a stupire con una costruzione delle immagini più artistiche e complessa. Mentre con il passare del tempo, la tensione verrà creata proprio dagli omicidi, che in momenti prima erano usati come esplosioni della suspense. Perché avvengono in rapida successione, in un tour de forza affascinante, reso benissimo dal titolo, reazione a catena appunto, che ti fa temere per ogni personaggio, perché sai che potrebbe morire da un momento all'altro. E dopo un po', gli assassini non ci spaventano più e soprattutto pensiamo che sia una spira impossibile da fermare, anche perché ci troviamo di fronte a tutti i personaggi macchiati di orribili colpe e non pentiti di quest'ultime. L'omicidio in sé è trattata con incredibile cura sul lato visivo e mischia effetti splatter memorabili ad una costruzione delle immagini fatta di piccoli dettagli attribuiti ad azioni quotidiane che però attraverso l'ottimo montaggio ci sembrano correlati agli omicidi mostrati in precedenza. Uno degli aspetti del film, da cui l'intero finale Slasher ha preso spunto, è correlabile alla prima parte dove vediamo qualcuno, di cui non sappiamo l'identità per via delle magnifiche soggettive, uccidere giovani ragazzi, cosa che però sa data dal film solo per confondere l'idea dello spettatore su quale sia la vera intenzione del killer. Ma ci sbagliamo e il film ci rivela con il passare del tempo che il vero killer è l'avidità che colpisce ogni uomo rendendolo spietato assassino. Questo rende vano il nostro tentativo di scoprire l'assassino e viene rivelato come nei migliori romanzi gialli che tutti sono vittime, tutti sono sospettati e tutti sono carnefici. L'uso del soggettivo è già citato, verrà suato costantemente per quasi tutto il film per mantenere un continuo sberleffo, tranne nella scena iniziale che inizia a dettare il modo originale con cui si scandirà tutta la pellicola con un ritmo forzennato, nella resa dei conti, forse la peggiore con un'eccessiva dose di verbosità e ancora una volta nel finale, memorabile per quanto poco credibile. I personaggi descritti sono incredibilmente complessi, strambi e sadici al loro modo ed ognuno di questi è un microcosmo folle a sé stante e il microcosmo si estende quando i vari destini si incontrano attraverso l'espansione di ognuno di questi microcosmi fatti esclusivamente di avidità e violenza. Ognuno sembra agire per conto suo, senza pensare di subire conseguenze ma in ognuno di questi c'è l'errore umano che perseguita ogni cosa. Un altro aspetto ripreso per il filone slasher è l'uso di arma bianca anche se qui non prende una forma definitiva. Uno dei migliori di questo sottogenere e a suo modo unico nel cinema in generale.